Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Leggo che degli attivisti, degli eco-attivisti, come ormai va di moda chiamarli, hanno pensato bene di spogliarsi in via del Tritone a Roma per manifestare il proprio dissenso sul tema del clima. In sostanza si sono messi ignudi per dare risalto alle proprie proteste. Quindi eco-attivisti che mettono a nudo letteralmente le loro proteste. Ora preciso subito che se l'alternativa è imbrattare le opere d'arte, tutto sommato meglio questa modalità che se non altro non produce danni al patrimonio artistico e culturale del paese. E tuttavia varrà la pena svolgere qualche pur rapida impressionistica considerazione sulle modalità con cui costoro protestano e sugli obiettivi che si propongono, perché se anche è come è giusto naturalmente prendere posizione sul clima, mettersi ignudi o peggio ancora imbrattare le opere d'arte non produce nulla di buono se non ridicolizzare. Mi spiace dirlo per questi ragazzi dalle belle speranze, si fanno ridicolizzare in questo modo. Una protesta che può anche essere di buon senso per difendere l'ambiente viene ridicolizzata in questo modo, perché non si parla dell'ambiente, si parla di loro che si mettono ignudi nelle vie del centro di Roma. E quindi se l'obiettivo era farsi ridicolizzare ci sono riusciti molto bene, se l'obiettivo era quello giusto di richiamare l'attenzione sull'ambiente non ci sono riusciti né poco né punto. Tra l'altro permettetemi di notare una cosa che ripeto all'infinito, ma dato che fatica a passare il concetto lo ripeterò finché non sarò capito, o parafrasando Voltaire. La giusta protesta per l'ambiente non si fa in questi modi, non si fa in maniera non pensata, irriflessa, si fa proponendo un modello alternativo, proponendo una critica radicale del capitalismo. Da che, non mi stancherò di dirlo, la fonte principale dei problemi dell'ambiente è il capitalismo, è questo modello di sviluppo che è anche ecologicamente insostenibile, anche, non solo, anche sul piano dei rapporti umani, anche sul piano dello sfruttamento. È un sistema insostenibile il capitalismo. Pensare di cambiarlo ritinteggiandolo di verde, come propongono gli alfieri e gli araldi della green economy, significa mantenere il problema semplicemente fingendo di affrontarlo e trovando semplicemente nuove fonti rinnovabili di business capitalistico. Quindi il problema dell'ambiente c'è, non si affronta imbrattando le opere d'arte o mettendosi ignudi, si affronta saldando la lotta ambientale con la lotta contro il capitalismo, trasformando un unico, queste tante lotte, i mille rivoli di queste lotte per l'ambiente, per i beni pubblici, contro la guerra, in un unico fronte dell'anticapitalismo che porti avanti, come un tempo era quando c'era una coine, una lingua comune degli oppressi, portando avanti queste battaglie in chiave anticapitalistica, che altrimenti si resta frammentati nelle disietta membra di un corpo che non ha più o alcuna unitarietà.